Onorevole Zannini, questa mattina un incontro molto molto importante qui a Rocca Romana, ci sono tanti sindaci, ci siete voi, ci sarà il direttore generale dell'ASL, consiglieri regionali. Che prospettive ci sono per la riapertura eventuale o per il rilancio comunque di questa struttura che un tempo è stata molto importante per l'area interna della provincia di Caserta? Buongiorno a tutti, sarò qui stamattina al fianco del sindaco Nicola Pelosi e di tutti quanti i sindaci di questa meravigliosa zona della provincia di Caserta per sostenere tutto quanto dovrà essere fatto per dare centralità e per far ripartire questa struttura. Io sono per gli ospedali pubblici e quindi ogni presidio pubblico di tipo sanitario se può deve essere rifunzionalizzato, riattivato e messo a servizio della comunità. Rocca Romana è una priorità, è una priorità dell'ospedale di Teano e anche dell'ospedale di Capo. Ci sono soldi in vista perché la comunità europea nell'ambito del recovery fund o nell'ambito del MES se dovesse essere attivato il MES metterà a disposizione molti soldi proprio per il comparto sanitario in generale e anche per l'edilizia sanitaria. Siamo qui per programmare e quindi sono tanto contento che per la prima volta ci mettiamo tutti attorno a un tavolo a Rocca Romana e che quindi viene posto al primo punto dell'ordine del giorno l'ospedale di Rocca Romana e la ripartenza di questo ospedale. Va dato merito al sindaco Nicola Pelosi che veramente in modo caparbo e insistente ha saputo mettere al centro dell'attenzione questa tematica importante. Vediamo un po' la riunione come va ma io sono fiducioso. Grazie mille. Grazie mille.